E cos'è la bellezza? È dentro, non fuori. Però fa anche la sua parte. Mi piacciono le ragazze con gli occhiali. Le mani. Il sorriso, il modo di fare. Il sedere un po' grosso mi piace. Ah sì? Per me non è un difetto. La bellezza. È una cosa che conta, ma non è tutto. Carezze, baci. Devo cercare di contenermi. Secondo me i difetti sono belli. Mi piacciono le mani dell'amore. Un po' di pancetta. L'importante è che piace a me. Sentirsi liberi, senza maschere, senza freni. Il più delle volte è un po' una scoperta. Il bello è scoprirsi. Andrest, appuntamento a letto. Da lunedì 9 maggio alle 23 sul Canale 9.